Il 2 e il 3 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a scegliere con un referendum tra la monarchia e la repubblica. A Giuliano i festeggiamenti si divideranno tra il centro storico e il litorale. Agli scavi di Liternum in mattinata avrà luogo la cerimonia alza bandiera curata dal 22esimo gruppo Radar Licola. A seguire un concerto orchestrale, un flash mob e un brindisi con la cittadinanza. Nel pomeriggio a Giuliano Centro, alle 17.30 un corteo seguirà la banda musicale. In piazza Municipio e in piazza Annunziata saranno deposte le corone di alloro ai caduti della città di Giuliano e ai 13 martiri. Abbiamo chiesto ai cittadini domani cosa si festeggia. Cosa si festeggia? Ecco, bello, la liberazione. Domani è festa? Che festa è? Eh, festa, dice che è festa nazionale, 2 giugno. Ovvero? Eh, beh, si deve rispettare perché quando è stato fatto sta, eh, si deve fare, andrà a fare festa perché è festa. Della Repubblica? Cioè? La festa quando, quando è finita la guerra, non lo so come. La festa della Repubblica. Che cosa si festeggia? Eh, che è? La liberazione... La liberazione dell'Italia. La liberazione dell'Italia. 2 giugno, festa della Repubblica. E cosa si festeggia? La Repubblica. Dopo uscita dalla guerra è stata proclamata la Repubblica, quindi la democrazia e tutto quanto. Dovrebbe essere la festa della Repubblica, almeno così mi sembra. Si festeggia la ricorrenza da tantissimi anni della cittadinanza italiana, appunto la Repubblica. La festa della Repubblica. E cosa si festeggia? Si festeggia che prima c'era la monarchia e ora hanno scelto la Repubblica. Il popolo italiano. Il popolo italiano, esattamente. Domani è festa, che festa è? Festa della Repubblica. Cosa si festeggia? Che ricorrenza è? Che cacciarono i re. 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 Che cacciarono i re.